Il vino grande protagonista a Colonnella con la tradizionale Kermes Calici di Stelle che unisce i piatti tipici del territorio, le degustazioni dei vini delle cantine locali e la buona musica. È una bellissima serata soprattutto perché è stata coniugata bene la musica e col canto, devo dire molto bella, partecipata, quindi ci ha allietato molto bene questa prima serata di Calici di Stelle. Ci sono le nostre quattro cantine, solo a Colonnellesi, fra cui la Cantina Sociale che è l'unica cooperativa rimasta nel Terramano. Ci teniamo a proporre i nostri prodotti tipici, soprattutto i vini, che per noi ormai è un bigliettino da visita per il territorio. Principalmente la nostra produzione è di Montepulciano d'Abruzzo. La proprietà su cui sono i nostri vigneti è una proprietà che gode di un territorio veramente speciale per la coltivazione di questo vitigno perché ha queste colline esposte in maniera eccezionale, un terreno calcario pietroso e un microclima dato dalla vicinanza del mare Adriatico e le montagne, non solo il Gran Sasso ma anche le più vicine montagne gemelle. Questo è proprio il cuore delle colline Terramane che poi sono tutte le aziende rappresentate in questo evento di questi giorni a Colonnella. Oltre al buon vino e al buon cibo, grande partecipazione di artisti e talenti nella prima serata, come la pianista che ha aperto la manifestazione suonando sulla caratteristica scalinata e il concerto dell'orchestra ritmo-sinfonica Sogno Italiano. Presenti all'evento anche le opere del maestro Livio Bucci con l'Abruzzo in miniatura. Ancora due gli appuntamenti da non perdere in programma questa sera. La splendida voce di Chiara Casadei aprirà l'evento e a seguire in Piazza del Popolo il concerto dei Masters, evento che noi di Rete8 seguiremo in diretta a partire dalle ore 20 con il nostro Tour Village.